Se pollo arrosto e polpette potessero sfidarsi all'ultimo boccone sul ring delle tavole italiane, a spuntarla sarebbe il pollo arrosto, meglio ancora se con patate abbondanti e tanto rosmarino. Lo rivela un'indagine di astra ricerca realizzata in vista del pollo arrosto dei 2024, la grande maratona social organizzata da Una Italia, l'Associazione Nazionale dei Produttori di Carni Bianche. Il dato più interessante è sicuramente che il 94% degli italiani ricorda che la nonna cucinava, o ancora cucina, il pollo arrosto. E questo è qualcosa che viene fortemente copiato dai nostri connazionali, visto che uno su tre si ispira alla ricetta della nonna per fare il pollo arrosto attualmente. E questo è interessante per chi supera persino le polpette. Anche quest'anno la carne più amata tra i simboli della tradizione gastronomica italiana viene celebrata il 2 ottobre, il giorno della festa dei nonni. Il pollo arrosto è perfettamente legato ai ricordi della famiglia, della tradizione, alle domeniche a casa dei nonni. Le carni bianche si confermano le preferite degli italiani, sono le uniche ad avere un trend di crescita nei consumi lieve ma costante. Quest'anno siamo intorno ai 21 kg pro capite. E la carne bianca rimane anche una delle preferite nel carrello della spesa degli italiani, con acquisti domestici che si attestano intorno al 35%. Il pollo arrosto è anche nei ricordi di Chef Guida, che durante la manifestazione prepara una ricetta aromatica e gustosa. Il pollo è famiglia. Quando si mette un pollo a tavola, di solito si serve sempre al centro tavolo, tagliato, intero, è bello servirlo ed è una cosa conviviale. Io preferisco sempre mangiarlo intero, allo spirito farlo intero e poi metterlo al centro e strappare con le mani, perché gli aromi, le erbe, il sale che mettiamo sulla pelle, quando lo prendi con le mani si attacca col grasso vicino alle dite e quando lo mangi è saporitissimo. Tutto questo si perde quando usi le forchette. La mia carriera di ristoratore di cuoco, di imprenditore della cucina, è nata facendo polli allo spiedo e rossiccerie. Questo è un ricordo importantissimo, profondo, che continua ad esserlo nella mia famiglia. Tema dell'ottava edizione del Pollo Arrosto Day prenota una nonna. Una masterclass presso la Gambero Rosso Academy, con la star dei social Nonna Marghe, per imparare a cucinare il pollo arrosto come nonna comanda. Bellissimi ricordi da bambina, io li ho mandati ai miei figli, ai miei nipoti e tutte le domeniche, quasi, le facciamo il pollo arrosto.